Un bonus pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto di una bicicletta da spendere in prodotti culturali e turistici. È bellezza in bicicletta la misura di sostegno a favore delle attività turistico-culturali rimaste chiuse durante il lockdown e che intende premiare appunto con un bonus economico quei cittadini che abbiano acquistato una bici o intendano acquistarne una entro il 15 di ottobre. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Lanciano Pupillo, dell'assessora alla cultura e turismo Marusca Miscia, di quella al commercio Patrizia Bomba. Il bonus, finanziato con 25 mila euro di fondi comunali, sarà spendibile attraverso dei buoni che dovranno essere utilizzati entro il 30 novembre nelle attività turistico-culturali accreditate. Marusca Miscia. Questa iniziativa è rivolta sia a coloro che hanno sposato un nuovo stile di vita che è quello della bicicletta, quindi un mezzo di trasporto che consente di godere dello spazio e delle bellezze della nostra città. Quindi incentivare queste persone e premiarle attraverso la possibilità di usufruire di uno sconto, di uno sconto di un vantaggio economico, quindi di un buono culturale da spendere, è pari al 30% dell'acquisto della bicicletta da spendere nelle attività culturali e turistiche, nello specifico nei negozi di musica, di dischi, oppure per acquistare abbonamenti al cinema, al teatro, ma anche un acquisto di beni culturali, quindi opere d'arte, viaggi. Ci sono tante possibilità, materiale di cartoleria, di fotografia, di design. L'elenco delle attività accreditate sarà pubblicato online nel sito istituzionale nei prossimi giorni e dentro il mese di dicembre 2020 l'Ufficio Cultura e Turismo provvederà a rimborsare il valore dei buoni spesi dai cittadini.